Questa mattina in sopralluogo in via Antonio Cippico, nel quartiere Giuliano d'Almata, nel municipio Nono di Roma. Come potete vedere alle mie spalle un nido arancione con i nastri gialli di Roma Capitale a circondare uno dei tanti alberi tagliati in questo quartiere. Un vero e proprio cimitero di alberi a cui si accompagnano anche avvallamenti, buche. Il tutto rende degradato il quartiere, oltre che impraticabile il percorso che porta verso uno dei licei storici della capitale che è l'Aristotele. Insieme dunque al coordinatore di Forza Italia del municipio Nono, Marco Scotto Lavina, ci uniamo al grido d'allarme lanciato dal coordinamento delle associazioni storiche del Giuliano d'Almata per chiedere al sindaco di Roma, al presidente del municipio Nono, di restituire dignità e decoro a un quartiere che per il patrimonio storico, culturale e artistico ha un valore di carattere nazionale che va preservato nel rispetto dell'intera cittadinanza.